Pomeriggio di grande apprezzione a Caiolo. Era da poco passate le 15 quando un aliante con a bordo due persone si è schiantato sul campo da golf. Il velivolo, trainato da un aereo, aveva spiccato il volo pochi istanti prima dalla superficie di Caiolo. Per causa ancora al vaglio dei carabinieri e delle autorità competenti, l'aliante ha perso quota schiantandosi sul treno di gioco e finendo dentro un bunker. L'incidente è avvenuto sulle nuove buche all'altezza dell'impianto SECAM di Cedrasco. Sul posto è subito intervinta l'equipe medica di Areu, affiancata di vigelfuoco del comando provinciale. Le due persone che viaggiavano sull'aliante, un 66enne e un 52enne di nazionalità tedesca, sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Sondrio. Secondo una prima ricordazione dei fatti, il velivolo senza motore, sospinto dal forte vento frontale, avrebbe superato l'aereo che lo trainava, poi lo schianto.